E' una star che è Emanuele Filippini, forse lo sapete che è stato compagno di squadra di Roberto Baggio, Guardiola, Pirlo, Mutu, questi sono tutti gli appunti di Andrea, e tantissimi altri campioni. E' sempre però stato anche appassionato di musica, in particolare di Bruce Prisley. Passava i bootleg, un po' come Gigi Miglio, passava i bootleg anche allo stesso Baggio. Apparentemente quando il boss veniva a suonare in Europa si faceva addirittura espellere per essere sicuro di riuscire a saltare le partite e andare a sentirlo dal vivo. Emanuele arriva da Brescia e questa sera ci fa ascoltare uno dei pezzi più sofferti e più cupi di Tams, Nothing. Gnaro! Sono l'unico non musicista, eh. Faccio sempre queste cazzate di farmi invitare da Andrea Parodi, di direi che non c'è nessuno. Voi ridete, ma sono più accettato io, eh. Ridete ancora. Provo a far questa, vai. Ci senti fuori? Provo a far questa, vai a far questa, vai a far questa. Emanuele arriva da Brescia e questa, vai a far questa, vai a far questa, vai a far questa. Io non voglio andare da Brescia e questa, vai a far questa, vai a far questa. Io non voglio niente, non voglio niente, non posso usare niente, ne voglio niente. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti